Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio di Starbound, sono in compagnia di Joe Kalian Ciao ragazzi E Xander Ciao a tutti E TABF TopolinoCraft Allo Che vero Ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video, annunciamo questa nuova e unica serie Perché dopo l'aggiornamento di Starbound, per chi è appassionato a questo gioco, uscito da poco Ecco, siamo finalmente in beta, è uscito un nuovo aggiornamento che si chiama Furious Koala Ossia il Koala in cazzetto nero No è vero ragazzi, gli aggiornamenti di Starbound si chiamano tutti basati su un Koala C'era il Serious Koala, se non sbaglio l'Angry Koala, adesso questo qua si chiama il Furious Koala E ha raggiunto un bel po' di robe ragazzi che vi spiegheremo durante l'explay E cominciamo questa serie Abbiamo atteso molto tempo per iniziare questa serie ragionandoci, studiandoci tutto Starbound Abbiamo studiato la wiki a memoria, vero ragazzi? Per cui conosciamo un sacco di cose Ma abbiamo perlomeno atteso molto tempo perché Dopo l'ultimo aggiornamento appunto, è entrato il Furious Koala E hanno eliminato tutti gli account vecchi Per cui tutti i PG mondi vostri che avete creato in questi giorni Sono tutti andati perduti Da questo aggiornamento in poi non dovrebbero esserci più problemi E noi inizieremo la serie vera e propria Mi dispiace, più che mi dispiace ci godo perché non leggono Tutti coloro che hanno iniziato una serie prima dell'aggiornamento Che ora si devono, si sono visti cancellare a tutti i mondi Basta Multiplayer, multiplayer, multiplayer E creiamo un nuovo... Io la scimmia come al solito Anch'io mi prende la scimmia a sto giro No, una scimmia, io Robbo Randomizze, randomizze, randomizze Randomizze, randomizze Anch'io sto spammando Randomizze, randomizze, randomizze Quali scelgo, quali scelgo, quali scelgo, quali scelgo, quali scelgo Io mi faccio la scimmia albina La scimmia albina Topolino, ci puoi fare la telecronica di Topolino? Chiamo Tudors Chiamo Tudors che magari lui lo so fare No aspetta ti chiamo Topolino Oh Topo Ti cerca Luke Arrivo Ehi ragazzi Ciao a tutti Ciao Topolino Ciao Ciao Bene io creo Aspetta Ah nome 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 Mi chiamo Ragazzi Io mi chiamo in un modo che non ve lo dico Vado Creo Come ti chiami in un modo che non ce lo dici Ok ragazzi creo Stopperò il video perché si vede l'IP A dopo E rieccoci finalmente in questo mondo nuovo di Starbound Siamo qui con la new quest La prima quest Ma prima di cominciare ragazzi Primo tutorial Benvenuti in questo primo tutorial Come creare Cioè siamo in un server Anzi Ne colgo l'occasione per ringraziare Vivamente Gamehosting Italia Gamehosting.it Per averci offerto questo server di Starbound Anche se non li hanno ancora in vendita ragazzi È una fase di sviluppo Stiamo testando i server come vanno Eccetera eccetera E poi Gamehosting Grazie alla nostra serie Deciderà se Metterli in vendita Oppure no Guardate Qua in alto a sinistra Dopo aver creato il server Logicamente C'è un più sotto la nostra faccia La clicchiamo E invitiamo i player Come vi chiamate ragazzi Joke Alien Eh no guarda Joke Alien Premiamo invio L'abbiamo invitata Ora spunterà il suo E noi facciamo Accept Spunterà il suo faccino Invitiamo gli altri Poi chi c'è ragazzi Me lo dite Xaver Sono TABF Quello che ha invitato Polino Oh una scimmia mi ha invitato E TABF Bene ragazzi Ora loro Per venire nella mia astronave Facciamo un esempio Io vado in questa qua Clicchiamo qui su uno dei personaggi Facciamo Game to ship Pompete E vado Sulla loro astronave Di Joke Alien Ciao Joke Ora Ciao Per tornare sulla mia Come faccio Per tornare sulla tua Scendi giù E ritorni su Scendiamo giù Nel mondo di Joke E torniamo Nel mondo di Patty Eh no nel mondo di me Bene Io non ho il mondo di Patty Ragazzi Raccogliate tutto Allora Oddio Oh come i meteorite Cadeva i meteorite Oddio Dove siete? Appena siamo andati C'è stato un meteorite sulla testa Sì sì Aspetta aspetta che sarei Mi sono spaventata Ragazzi Facciamo la prima missione Dai che poi si diventa lungo il video Aspetta che Sono in giro Io che faccio Avete raccolto la roba vostra? Sì Sto raccogliendo Ok ragazzi La prima quest è Aprire la cesta Questa qua Pompete Raccogliere tutta la roba E abbiamo completato La prima quest Pompete Seconda quest è Fare la crafting table Per cui ragazzi Tutti insieme appassionatamente A fare la legna Ci siete? Dove andiamo? Sul mondo di Luke o? Sul mio mondo Dai tutti insieme ragazzi Dai andiamo sul mondo di Luke Vai Ok scusate ragazzi Questo aggeggio Che si chiama esattamente Il Matter manipulator È una sorta di piccone Pala Accetta Tutto insieme Un tutto fare Eh bravo Potete non distrugge Milabai Grandissimi pezzi di merda? Bastardi Guarda Bastardi Vi uccido Vai 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 Dai andiamo 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 Andiamoci Eccoci qua Ma chi è che è vestito da babbo natale? Oh ragazzi Meteorite Guardate che buco che ho fatto Qua sei io Eh sì mi sono spaventata Ma come è caduto meteorite qua? È caduto meteorite qua? È caduto meteorite vedi il buco Qua si è dissutto tutto con meteorite io da l'ora di fianco mi sono spaventata Vabbè raga facciamo la legna facciamo almeno le cose basi veloci e poi vi inizierò a giocare Se la mente io Dai Dai legna Abbiamo un babbo natale super saian Raga tutti insieme lo buttiamo giù prima Dai 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 di qua mettetevi dal lato mio sennò cade nel fosso Cadetevi a destra Caduto tia nel fosso Occhio giù Occhio giù Andrà Hai fatto male Io in realtà non so se i rumori sono troppo alti Vai da lui da lui da lui Raccogliamo raccogliamo avanti ragazzi Io ne ho 13 pezzi quanti ne servirebbero? Che figata di gioco ragazzi però che figata Ah in descrizione troverete il link logicamente dove acquistare il gioco Non trovate il link ma lo trovate su stream Vaffanculo Starbound Geronimo Bam Vabbè ricordiamo per chi non conoscesse il gioco e non ha visto altri episodi Ragazzi Starbound è il pro continuo Marlene Marlene Il pro continuo della serie conosciuta di Terraria Paglia BAM Ma pensa che figata se però ne abbatti uno cade sull'altro e fa E' così Giochiamo a domino E' così Distruggiamo 5 secondi Raga ci serviva un po' di legna 8 quintali Io ne ho 48 pezzi Stiamo su una fabbrica di legna Ma perché non abbiamo Babbo Natale e Super Saiyan? E' perché è carnevale quindi Io direi basta no? C'è ancora l'aggiornamento di Natale Sì torniamo tutti sulla mia navetta Ma non è Andiamo a craftare Andiamo a craftare Nice Allora ragazzi Premendolo a C Possiamo craftare Allora facciamo le wooden plank Prima di tutto Ma perché io devo stare da te scusami a fare la mia crafting table? Eh giù stai zitto ok E poi possiamo fare la crafting table Ok Con quest No quest complete Ora La prossima questa ragazzi E' beccare delle bistecche Le bistecche le droppano i mob Però con la spada C'è una piccolissima percentuale Che i mob ci diano la bistecca Noi ci crafteremo l'arco Per craftare l'arco ragazzi Abbiamo bisogno di Eh le fibre Sì le fibre Le cose Quelle le iane Le fibre le piantine Allora andiamo a prendere le piantine Nice No scusatemi Nice to meet you Perdonatemi Ma cos'è che dovrei fare Per fare la crafting table? Eh Siamo in legno Le wooden plank E poi Capito Cici Fai le wooden plank C'è C'è Gio è facile C'è La c Poi lascia La Riavvi il modo No Apri la finestra Ti c'hai di fianco Perché aiuta Aiuta Aprirle finestre Sì sì Aiuta tantissimo Ah beh Ho provato io Sono dimagretto 5 kg Sì sì Ma poi dipende 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 Se ti Siete sciosi di nuovo Ma siete dipendenti No 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 Gio siamo sopra Però Gio accetto Da che lato siete andati Diffuse Diffuse Da che lato siete andati Desso a sinistra Senti Gio fate i cazzi tuoi Certo Andai Dove siete andati In giro Eh ma a destra o sinistra Sopra Gio sopra Siamo in alto Ma che cacchio dici Quante ne state raccogliendo Troppi No Dobbiamo fare quattro archi Ragazzi Ragazzi Dobbiamo fare quattro archi Da bagno E ne serve uno Per fare un arco Mi sono perso un attimo Scusatemi Ne abbiamo raccolti tipo 100 Ma voi siete nel mondo Di luce Ma questi qua sono amici ragazzi Sono i pet Sì sono i nostri amici Quelli Ah siete lì Vi vedo Vi vedo Vi vedo Non siamo noi Cioè io non ti vedo No 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 Che cavolo fa Sto boss mi ballava davanti ragazzi Perché io mi sono messa Una torcia Ragazzi comunque Vi ricordo che trovate Le quattro visuali Totalmente diverse Nel link in descrizione Perché tutte le quattro Stiamo registrando Vi consiglio di seguire Di guardare anche i loro video Se accade qualche cosa di strano E ragazzi Torniamo su E vi ricordo Vi ricordo ragazzi Il pollice in su Se volete il continuo di questa serie E sorte di tutorial Ma fa un bagno Io non ho ben Io sono pezzi di meteorite Guarda che figa Ragazzi preferite Che facciamo il video Tutto intero O come facevo Fino la settimana scorsa Video di 3-5 minuti Dove ci sono solamente i tutorial Decidete Commentete E facetecelo sapere Allora ragazzi Andiamo vicino alla crafting table E craftiamo gli archi Eccolo qua Il hunting bow Hunting bow Eccolo chi Ok l'ho craftato Anch'io Ci manca uno di legna C'è uno di legna Io Io potrei dartelo Ma non ce voglio Come lo vuoi E ben cotto Grazie No aspetta Ma te lo faccio io direttamente L'hunting bow Che ne posso fare due Va bene Ma scusate No Giorno Oh mi mancano Mi mancano le band No Passate qualcuno Giorno Oh ma chi Voglio fare le band Aspetta Dovete farci Andate sotto il punto di domanda Band age Immagatemi delle band Per favore Eccolo qua Craftiamo le bendozzole Meglio Le rischi di craftare Ben Quante 17 Giù Siccome 17 Porta sfiga La tenendo un po' Grazie Te le metto Te le metto qua La mia cesta Ragazzi andiamo avanti Con Dai andiamo Si metto Equipaggio l'arco Andiamo a prendere la coppia Sto per far piccone No 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 Ragazzi le bistecche Prima dai Su Non riesco a fare l'arco Ma cosa mi serve per l'arco Dai sta arrivando la notte Raga Aspettiamo Joe Andiamo Dai Joe però Un foglio scendo Vabbè ragazzi Quattro bistecche Andiamo noi tre Dai Joe sta a casa Joe Puliscivi la nostra L'astronave No Ammazzate Dove siete andati Svuotami la lavatrice Gioche Colpitelo Colpitelo Se si scende Ma Ce la facciamo in tre ragazzi Madonna che Mira di merda C'è oggi Eccolo Si la pelle Ci ha dato La pelle Figlio da pollo C'è una palla di pelle Di pollo Io mi prendo le band Basta Comunque ragazzi GG al server Di game hosting Zero lag Esatto Esatto Fighissimo Nice game hosting GG game hosting Figgissimo 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 Vai Figgissimo Taccati Di qua Di là E fu così Che lasciavo il server Ragazzi Ma un mob Che cazzo Abbaia Abbaia Ringia Che cazzo Che cazzo Ciao Io non so dove siete Ma che malattia c'è sto cosa Ma che animale è Ma chi è che spara le frecce in diamante Se te andate a destra sto giro A sinistra Tutto a sinistra No dai Seriamente Gio ma non troviamo un mob Che cazzo è perché è tutto buio Siamo tipo sotto terra No ma che figata ragazzi Cos'è sto pinguino qua Ma sto pinguino È un uccello È razza degli uccelli È un amico Ah quindi non posso picchiare Oh ops Picchiata Aiuto guardie C'è un villaggio Se chiamare guardie No Ma c'è un villaggio No picchiate Eh ormai l'ho ucciso Ma ci stava portando al villaggio Toglietevi le armi Toglietevi le armi però Per il villaggio ragazzi Perché sennò ci ammazzano C'è un rinonco ronco C'è un ring Aiuto Oh la tartaruga squalo qua Sì Oh tante tartaruga Madonna Uccidi uccidi Ragazzi dall'ultimo aggiornamento Ricordatevi che hanno potenziato i mob Guardate Sono più intelligenti Oh l'ho preso Nice E io combatto da sola Contro mille mostri Nice Con l'arco Con l'arco Oh ma Sì ma le bistecche manco a pagarle Ma qualcuno ha troppato bistecche ragazzi Ragazzi facciamo così Io ve li indebolisco E voi li ammazzate Eh Final Sì ma tu stai morendo C'è un culicino Aspetta che mi piglio No Attenzione 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 Ma bulba sa Qua dovete portarlo ragazzi Ragazzi sto morendo Sto morendo Sto morendo La benda La benda La benda La benda La benda Ragazzi Le bende Le bende Le bende Spieghiamo ragazzi a casa Cosa sono Le bende ti danno rigenerazione vita Oh È morto È morto Ragazzi Di notte è pieno eh Quindi dovremmo andare in su Perché qua Eh Ragazzi ma sti cosi Eh sono degli schifidels Che sono usciti dalla Ragazzi Da sottosù Stanno usciti Da dove sono usciti sti cosi Io ritorno sulla mia nevicella E mi faccio La nevicella La nevicella Vado dalla nevicella Va bene Ragazzi ma un piede qua Un aiuto Cosa sono questi Arrivo È pieno di tartarughe nervose qui Oh Ma cosa sono Hanno i capelli lunghi Cos'è Ma riusciamo a fare Quattro bistecche di merdica Delle parrucche Oh bistecca 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 L'ho vista L'ho vista L'ho presa Mericchito Mericchito Un'altra bistecca Un'altra bistecca No Stai calmati Lu Stai morendo lì Eh lo so che sto morendo Che devo fare Che devo fare Uh cavolata Un'altra bistecca Mi sa che ne ho tre Ne ho tre Dai ragazzi Una bistecca Una No sono caduto giù Gio è una bistecca Eh Hai una bistecca Eh ti pare Non so manco dove siete Ok ne ho tre Ne manca una E poi siamo a posto Aspetta Ce l'ho ce l'ho Ce l'ho presa Tutti a casa Tutti a casa Aspetta da colto di pixel Ok a casa No non posso Non l'arrivata prima io Wow Wow Uffa Raga mettete a cuocere Ti dà cuocere il cazzo Dove lo cuociamo Dobbiamo fare il campfire Viene me la bistecca Il campfire Lo faccio io Lo faccio io Vai facci Lo faccio anch'io Me lo faccio anch'io Eccolo Come si fa Campfire Campfire Te lo metto già giù io Magari No ce l'ho ce l'ho No io lo porto dietro Ecco il campfire Ragazzi ci riscaldiamo Riscaldiamo si Io lo metto giù Per adesso vai Cuocete le bistecche Dai su 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 Dai 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 Anche a me Anche a me Ok vai cook Cook e cook Io l'ho preso Una mia Ok io l'ho presa Nice Vai Abbiamo fatto la fornace Era mia Dimmi la fornace No è dentro il Ragazzi Bisogna fare la fornace Per cui tutti A prendere cobblestone Facciamo il piccone Dai Oh nice Boom Mamma mia ragazzi Quanto è bello sto gioco Però è Quanto è bello Allora Ti devo fare Cobblestone Che già scavano Sì bravo 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 Giovanni Pasquale Dovremmo andare Antonio Dovremmo farci il letto Per dormire in giro Per recuperare la vitola Martini Qui c'è cobblestone Martini Qua No party Campari No Qualche volta Potete non rubarmi I miei pezzi di cobblestone Ragazzi Io sto morendo Se vi state chiedendo Perché facciamo i picconi È perché i picconi Sono molto più veloci Di suo aggeggio E deficiente Scava pure indietro La parete Ho bisogno delle band Come le uso? Eh Tasto sinistro Chi si ricorda quanti 25 giusto? 20 Ma a testa? A testa sì Per un piccone Facciamo Sì All'incirca sì Ah ma ti dà un coso di vita a volta? No ti ricarica piano piano Ma quante ne mangiate? Eh Rigenera E ditelo È un Ti rigenera piano piano Tipo una pozione Raga io sono a 24 Ok Eh Io sono Non l'ho nemmeno una Perché l'ha butto giù a Xander Quindi Nice Vabbè Tre ciascuno Come minimo Allora per fare la formazione Io sono a 29 Dai io la prendo anche per voi Dai 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 Ah ragazzi Ricordiamo che per rompere i muri dietro Usare il tasto destro Bravo Esatto Bravissimo ragazzi Perché questo fa è un let's play Vede proprio Insegneremo tutto quello che sappiamo Che abbiamo studiato Esattamente E devo dire una cosa ragazzi Sto gioco è mille volte meglio Per gli appassionati di Terraria Di Terraria stesso Per cui Oh qua c'è il ferro Ragazzi Ah ragazzi il ferro Già che ci siamo Eh ma non ti conviene Non ti conviene magari andare un attimino tu Sull'astronave Fare il piccone E venire a prenderti il ferro Bravo Bravo Intelligente E vedi che Pasquale è intelligente Anzi Faccio quanti picconi riesco Vediamo un po' Allora Per fare il piccone Per fare il piccone In poche parole Xander quanto Quanta roba hai Che io Praticamente Ok Ne ho fatti due ragazzi Ne metto uno qua dentro La mia cesta Senti con questo Prendetelo Ok Eh Ok Joe Quanta ne hai Ne ho 16 Ragazzi Ve lo ricordate il trucchetto Trucchelloso 17 Quale Il trucchetto trucchelloso Vero Faccio la fornace Io sblochiamo tutti Yes Vai Allora Vado a fare la cobblestone Per la fornace Dai Ok Tanto io faccio ancora un pochino Ma, teoricamente Quanta ce ne vuole di cobblestone? 25 E la madonna Io ne ho 17 Ce l'ho io, ce l'ho io Ma volendo io ne ho 34 Però Vado a prendere anche il ferro Perché ci servirà a cuocere il ferro Poi, eh Esatto Ok, ho preso il piccone Così facciamo subito le quest iniziali E abbiamo finito di giocare Cioè, poi siamo liberi Oh, mi sta uccidendo un maiale qua Mi serve il mio piccone Sander, hai preso il ferro? Sì Due pezzi Quanto ce ne serve? Quattro, però Oh, col piccone è tutt'altra cosa, ragazzi Ma io voglio arrivare nelle cose avanzate Voglio fare il diamond drill Il reggisoldi Oh, una lumaca Un Un Ma con l'arco Ma è un pitbull, cos'è? Un pitbull Ma E non lo so L'India come pitbull, sto coso Quanto, quanto cobblestone ci vuole per il piccone? 25 Avete detto Vai, andiamo, andiamo a casa Sì, vai Andiamo a casa Ok, le vengono su da te Raga, faccio la fornace Cobblestone brick, no La fornace Come si chiama? Fornace Fornace Te lo dico subito Con qualcosa Fornace Non posso adattarla Cosa mi manca? Il pezzo di Il campfire Il campfire Il campfire Devi utilizzare il campfire Tieni, tieni Quanta ne serve di cobblestone? No, ce l'ho, ce l'ho, tranquillo E ributtalo quando vuoi Mi serve velocissimo un attimo la crafting table Ok, fatta ragazzi Allora Ve la passo La metto qua dentro Sì Prendetela Ok Ve l'ha sbloccato? Viene completata Ve l'ho arrivato Eh, rimettetela ragazzi Rimettetela Dai Eh, certo, certo Vai Mi facendo una caramella Me la sono fatta anche a casa Veloce e veloce Sì Ok, accept, accept Te la rimetto subito No, no, metti la terra Metti la terra Adesso cuociamo il ferro Ok, allora Aspetta che te la metto subito a terra Dove la vuoi? No, si, se vuole Le indifferente Dai Ragazzi R'invitatemi al party, please Che l'è succeduto? Ok, 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 ragazzi Io sono arrivato alla fine Perfetto Cuocete il ferro Io ho da cuocere il ferro Dobbiamo prenderlo tutti però Il ferro Eh, vai Eh, sì No, non spaccate il No, no, no Lui Io ho messo ferro dentro Chi lo deve usare? Ok, io Ne prendo uno Quest complete Ok, ve lo rimetto Ve la metto dentro La chest di Luke Ok Mi rinvitate al party Vi siete fatti il letto ragazzi? No Quest complete One moment Allora Dov'è? Thank you Vai ragazzi Ci rimane l'ultima questa L'ultima La più difficile Che è quella che ci serve Cosa ci serve? Non mi ricordo più Allora In poche parole Dobbiamo craftare questo coso qua L'antenna Bravissimo L'antenna Sì Non è un'antenna Sottospecie di antenna Sì che si crafta Come si chiama? La distress Si crafta in poche parole? Come si crafta in poche parole? La distress Te lo dico subito La distress Allora Oddio Ragazzi 150 pixel 2 silver bar 10 copper 10 iron bar E 100 di legno Vabbè legno lo abbiamo Vai ferro Copper e silver Andiamo Andiamo ragazzi Tutto in caverna Tutti insieme Dai dai Tutto fattibile Dal mondo di Lu Giusto? Vai tutto a sinistra Andiamo in caverna raga Torce siamo messi bene? No Sono io il torciatore matto Sì 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 Io L'uomo torcia Questi Oh mio dio Io quanto li odio Sti cosi qua che volano Andiamo raga Andiamo Aia Sono morto No come sei morto? Eh sono caduto in mezzo di pitbull Riuscite il silver Vai arrivo Perché ragazzi Morendo Purtroppo Purtroppo Per fortuna Ragazzi La cosa figa Per chi non lo sapesse Morendo È vero Ci rimane l'inventario Uno dice Ma è una cagata No Perdiamo il 30% dei pixel Quali in alto a destra E i pixel Se non abbiamo pixel Non possiamo craftare Aia Eh non è bello Aia